Benvenuti a questa nuova puntata di Overcolazione. Questa settimana parliamo di un bellissimo festival, la sedicesima edizione dell'Athens Digital Art Festival, che sarà online dal 10 luglio al 10 settembre. Il tema di quest'anno è il tecno-tribalismo, che sarà affrontato in diverse sezioni, dalla videoarte all'animazione alla realtà virtuale e poi tantissimi incontri e spettacoli. Noi saremo presenti con Over The Real con due bellissimi appuntamenti, una fantastica retrospettiva dedicata a Alessandra Maducci e poi una nuova selezione intitolata New Vision of the World. Gli artisti che parteciperanno a questa selezione, che hanno realizzato questa selezione, sono Eleonora Manca, Anna Beata Baranska, Apotropia, il duo Juan Godman, Lino Strangis, Alessandra Maducci e Igor Imhoff. Il tema centrale di queste opere è quello di presentare nuove visioni per un cambiamento del mondo, sempre carico di violenza e di un'economia molto squilibrata. e quindi sarà l'occasione per dare al pubblico una nuova visione e nuovi concetti di cambiamento. Vi ringrazio e quindi non perdete questo appuntamento, ricordo, online dal 10 luglio al 10 settembre Athens Digital Art Festival. Grazie.